pensate che il più grande pensiero sull'anima che sia mai esistito che è il pensiero cinese amava dire che senza scopo si va alla meta in poche parole era un inno alla distrazione quella è la migliore distrazione da me stesso per cui se proprio un lavoro volete fare in vacanza non lavorate su di voi non ditevi questo carattere devo cambiarlo questo rapporto devo modificarlo no, no, no provate a stare con voi senza alcuno scopo se non quello di portare voi stessi nelle cose che state facendo vi auguro buone vacanze buone vacanze a chi va al mare a chi va in montagna e a chi rimane in città e anche a chi lavora vacanze deriva da vacuum, vuoto il sole raggiunge il punto più alto la sua massima forza e noi per incontrare questa energia luminosa che ci abita dobbiamo essere sempre più vuoti allora gli editori mi hanno chiesto di scrivere qualche appunto da usare per il benessere nel mese di agosto ho scritto dei flash distraiti da te stesso quello che conosci mentre lo guardi è già passato distraiti il miglior modo per distrarsi è la creatività molte volte i miei pazienti che vengono per esempio con un problema matrimoniale che sembra impellente no, voglio separarmi voglio separarmi non ne posso più ah è in grado di separarsi? no, beh da quanto ci pensa? ah, sono tre anni che ci penso se ci pensa da tre anni non funziona come non funziona? eh sì, eh mi devo separare se voglio separarmi come se fosse la prima volta che mi viene in mente perché altrimenti il cervello cosa fa? ti riempie di dubbi non lo sopporto lo lascio però non ci sono abbastanza soldi oppure cosa sarà dei figli allora vi tocca sopportarlo no, no io in vacanza ovunque sono nel mese di agosto io dico sempre ai miei pazienti signora separarsi lo può fare domani adesso però possiamo fare cose creative cioè creative come sarebbe? le piace disegnare? mmm scrivere? mmm un romanzo scrive un romanzo eh ma è una perdita di tempo ecco noi dobbiamo fare adesso cose senza scopo volete passare il migliore agosto della vostra vita? fate questo progetto devo fare ogni giorno due o tre cose senza alcuno scopo cioè mi metto lì non con lo scopo scrive un romanzo che lo pubblicheranno no, no no non un disegno per farlo vedere a che piace no, no senza alcuno scopo pensate che il più grande pensiero sull'anima che sia mai esistito che è il pensiero cinese amava dire che senza scopo si va alla meta in poche parole era un inno alla distrazione quella è la migliore distrazione? da me stesso per cui se proprio un lavoro volete fare in vacanza non lavorate su di voi non ditevi ah questo carattere devo cambiarlo questo rapporto devo modificarlo no, no, no provate a stare con voi senza alcuno scopo se non quello di portare voi stessi nelle cose che state facendo e ogni progetto affettivo deve essere bandito perché ha uno scopo guardate che se voi vi mettete in mente per il mese di agosto di fare cose senza scopo troverete delle sorprese inimmaginabili è molto diverso dire mi separo così posso stare con Marcello allo scopo mi separo così sono più libera allo scopo mi separo perché finalmente posso fare cose che prima non facevo oppure dire aspetto che la separazione venga a trovarmi e mi separi lei quando si sono aperte le acque e fu riuscito il liquido amniotico c'è stato il parto non l'avete programmato voi ecco la vacanza può diventare il luogo dove io mi siedo sulla sostanza che mi fa partorire verso la donna o l'uomo che c'è dentro di me che ancora non vedo alcuni flash non dare di te nessuna definizione ti chiuderesti in gabbia non dirti sono solare sono sensibile sono timido non dire niente e quando arriva la timidezza o quello che non ti piace immagini che sta arrivando perché vuole che tu lo guardi senza scopo senza commento senza la voglia di mandare via non ci sono certezze nella vita e quindi l'insicurezza trattala come la miglior compagna per l'estate un altro compagno vi sorprenderà e che vi renderà la vita veramente meravigliosa è il dolore ogni tanto nella giornata provate a dirvi ma io sento un fastidio sento un dolore sento un disagio non collegato dal passato a una causa proprio sentite il disagio come presenza e sappiate che è uno dei modi migliori per ripulire il cervello il dolore quando viene constatato percepito dura pochissimo e prepara stadi luminosi della coscienza se trovate il modo state un po' più da soli in questo periodo ma state in mezzo agli altri ma trovate uno spazio per stare da soli meglio vicino a una pianta meglio nell'ombra e ricordate che al di là delle sciocchezze che si dicono il mondo è fatto di luci e tenebre Goethe diceva sai io non lo so come sarà il mondo fra dieci mila anni ma una cosa è certa che il buio e la luce saranno sempre presenti quindi se il tuo lato luminoso è troppo è troppo amplificato ricorda che prima o poi l'anima per correggere ti regala altrettanta tristezza l'idea che la vacanza sia bere divertirsi tutti insieme ridere come purtroppo accade da tanti nostri giovani stare sempre in gruppo sempre insieme non fa nient'altro che amplificare la personalità numero uno del cervello quella dell'io quella dei pensieri quella dell'essere nella superficie ma le sorprese migliori i regali che l'anima ti può fare che la vita ti può fare sono nel profondo quindi guarda te stesso senza alcuno scopo se vuoi puoi prendere un block notice quante cose senza scopo ho fatto nella giornata cammino mezz'ora senza sapere dove vado quando fai le cose senza scopo accade una cosa straordinaria che si forma all'occhio del nuovo sei pronto a vedere il nuovo e immergi energia nuova nella solitudine del profondo e ti rigeneri buone vacanze